Musica Premiare i giovani meritevoli, così la BCC Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese in collaborazione con gli istituti scolastici secondari del territorio forlivese ha organizzato l'iniziativa 100 su 100 Diamo Valore ai Giovani durante il quale è stato consegnato riconoscimento agli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti all'esame di Stato 2017-2018 Un'iniziativa della BCC soprattutto rivolta ai giovani Sì, noi crediamo nei giovani come è lo slogan che è fuori sulle locandine La BCC da tanto tempo svolge queste iniziative perché lavoriamo su un territorio quindi per crescere, dobbiamo crescere con il territorio e il modo migliore è investire nel futuro del territorio, cioè nei giovani quindi riteniamo doveroso premiare e riconoscere l'impegno di chi comunque è dedicato proprio tempo, proprio risorse per ottenere un buon risultato questo per incentivarli a perseguire così perché rimangano sul territorio e possono poi continuare a dare quel supporto, quel rinnovamento per l'innovazione di cui il territorio ha comunque sempre bisogno Questa è una premiazione che viene fatta praticamente ogni anno? Sì, viene fatta ogni anno, da tanti anni la BCC la faceva negli altri territori dopo la fusione abbiamo esteso giustamente anche a Forlì che oggi è parte della famiglia questo tipo di iniziativa. Il territorio di Forlì ha una sua consulta locale che si occupa comunque dell'erogazione del territorio e all'interno di questo abbiamo inserito questo tipo di iniziativa. Aggiungo anche che la BCC dà tempo alla Fondazione Giovanni delle Fabbriche che è collegata alla Fondazione Multifor la quale si occupa di inserire i giovani nel mondo del lavoro che è un'attività che è svolta nel settore forlivese e che verrà probabilmente estesa anche agli altri territori Oggi questi giovani meritevoli verranno premiati, come? Questi giovani verranno premiati in modo direi simbolico perché a ciascuno verrà data una somma che potranno mettere in un nuovo conto corrente oppure in una carta prepagata però l'interesse nostro non è tanto quello di premiarli ma è quello di fargli capire che una banca come la nostra che è una banca locale di credito cooperativo fra le sue missioni e i suoi scopi principali ha anche quello di essere vicino agli studenti quindi la speranza nostra è tramite queste manifestazioni, tramite questi premi far sì che anche loro si interessino alla nostra banca per far sì che per il futuro il territorio benefici ancora dell'attività di una banca di credito cooperativo Come lei stessa ha detto parliamo di una banca di credito cooperativo quindi il riversare un po' di quello che è la propria ricchezza sul territorio è molto importante è un po' come una mission Assolutamente, noi abbiamo i nostri soci cioè quelli che dettano le linee sono 30.000 soci quindi veramente da noi uno vale uno e i nostri soci non si aspettano dividendi o remunerazione per il loro investimento in quanto capitale però si aspettano che noi facciamo bene il nostro mestiere e quello che rimane dal nostro mestiere come ha detto lei lo riversiamo per tutte queste attività e quella relativa agli studenti è uno degli impegni principali che noi abbiamo Oggi è importante riconoscere questo premio che viene dato ai giovani che hanno raggiunto il massimo dei voti all'esame di maturità quindi è anche un momento importante sia per i ragazzi ma anche per il territorio Sicuramente, il fatto che questa esperienza si sia allargata da Ravenna a Forlì io credo che sia molto importante perché anche Forlì credo che abbia la possibilità in questo modo di dare qualcosa in più ai giovani intanto riconoscere il merito e in secondo luogo creare le condizioni per cui i giovani si possono avvicinare al sistema bancario ma al sistema finanziario del suo complesso queste conoscenze, queste competenze sono importanti da spendere poi quando diventeranno cittadini e quando diventeranno professionisti Il claim della giornata di oggi è diamo valore ai giovani ma non basta darlo un solo giorno, cioè quando vengono premiati questo valore deve essere un continuo Ma io lo interpreto in altro modo nel senso che diamo valore ai giovani secondo me significa creiamo le condizioni per poter informare i giovani di quelli che sono gli elementi essenziali che andranno a costituire la loro vita nel futuro la partecipazione del sistema bancario come di altri sistemi alla costruzione di queste competenze di conoscenza dei giovani credo che sia molto importante per farne bravi cittadini ottimi professionisti del domani Un'iniziativa della BCC che prima era presente in altri territori quest'anno arriva anche a Forlì per premiare i giovani meritevoli Una bellissima iniziativa, un accasone molto emozionante, molto particolare Praticamente mettiamo insieme nella stessa mattina passatemi il termine, la Forlì del futuro Dentro, negli occhi di quelle ragazze e di quei ragazzi possiamo intravedere il chirurgo, il medico che ci cureranno, ci guariranno l'agricoltore che ci sfamerà il professore che insegnerà ai nostri figli, ai nostri nipoti e magari, perché no, anche il sindaco o l'assessore che amministrerà questa città Perché è importante riconoscere anche il merito di questi ragazzi cioè quelli che hanno fatto meglio e in un certo senso devono essere premiati Sì, io credo che anche e soprattutto in questa città insieme alle istituzioni scolastiche con il nostro sistema educativo e di welfare aiutiamo moltissimo gli studenti, le persone in difficoltà o quelle con meno talenti o le cosiddette ultime ruote del caro di cui tante volte abbiamo parlato con i salesiani Occorre però non dimenticare occorre però sollecitare occorre però stimolare anche le nostre eccellenze i nostri cervelli direbbe Michel Montaigne sarebbe contentissimo di questa mattinata lui diceva una testa ben fatta è meglio di una testa piena ecco stamattina l'aula Icaro di Forlì sarà piena di teste ben fatte Sono circa 130 i ragazzi che verranno premiati oggi e in rappresentanza di loro intanto vi facciamo conoscere Ione è una bella soddisfazione quella di oggi? Sì, senz'altro è un'opportunità unica di incontrare così tanti ragazzi tutti bravi assieme Lo studio è quello che fa alla fine ottenere questo risultato nel tuo caso come te lo sei gestito? Diciamo che è stato un percorso difficile ho studiato praticamente quasi tutto l'anno ma diciamo che ci siamo levati una bella soddisfazione perché sono riuscito appunto a finire l'esame di maturità col massimo dei voti E adesso diamo uno sguardo al futuro quali saranno i prossimi passi? Allora innanzitutto provvederò col prendere una laurea all'Università di Bologna in Ingegneria Elettronica perché è quello che avevo studiato anche alle superiori e dopo si vedrà Ilenia Solami viene dall'ITC Matteucci quindi anche tu con voti eccellenti a fine anno vieni premiata oggi come hai ricevuto l'informazione di questo premio? Allora io devo essere sincera quel giorno ero in facoltà all'Università mi ha chiamato mia mamma dicendo che l'istituto ITC Matteucci mi aveva contattata perché la BCC aveva appunto organizzato questo evento per premiare i meritevoli ovvero chi erano usciti con cento e centelò dall'esame di maturità e poi successivamente mi è arrivata la lettera di convocazione alla quale sono stata molto contenta di confermare la mia presenza Che cosa vuol dire arrivare alla fine delle superiori con il massimo del voti anche in questioni di sforzi, di vita, scelte che si fanno durante tutti gli anni non solo l'ultimo anno? Assolutamente è la perfetta gratificazione di cinque anni comunque passati impegnandosi, studiando con pochi momenti di riposo perché comunque arrivare con un voto così alto richiede non pochi sforzi ma sicuramente sono tutti ripagati da un risultato che comunque che sia cento e cento lodo è assolutamente ottimale Adesso hai già accennato che vai all'università, che cosa fai? Adesso mi sono iscritta alla facoltà di scienze politiche e sociali internazionali e poi con la speranza di un proseguo nella comunicazione pubblica di impresa Vieni invece dal liceo classico Simona Vecchio che ha ottenuto anche lei questo premio per aver raggiunto il massimo dei voti alla maturità Com'è stato insomma ricevere questo premio e che cosa ne hai comportato? Sicuramente una grande soddisfazione personale ma non solo anche un ringraziamento ai miei genitori che mi hanno permesso di intraprendere questo percorso e sicuramente mi hanno sempre appoggiato e sostenuto in tutto quello che comunque ho fatto fino ad oggi e è sicuramente una grande soddisfazione perché appunto ti ripagli dei propri sacrifici fatti e ringrazio anche questa scuola per avermi permesso appunto di intraprendere un percorso sicuramente molto interessante e anche di avermi dato la possibilità di intraprendere un percorso all'università altrettanto importante e sicuramente interessante Un consiglio che vuoi dare invece a quelli che ancora non hanno concluso il percorso e che magari stanno cercando anche loro di raggiungere l'eccellenza che hai raggiunto tu? Sicuramente la prima cosa è di non farsi prendere dal panico come è successo anche a noi perché è un'esperienza comunque che fa crescere tanto e non diciamo di viverla al meglio perché sicuramente è qualcosa di veramente bello e unico che rimarrà comunque sempre segnato come momento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti